Oltre un miliardo di euro sequestrati, 9.020 evasori scoperti e più di un milione di interventi, tutto nel 2019. La Guardia di Finanza festeggia con questi numeri il 246esimo anniversario della Fondazione del Corpo. I dati sono contenuti nell'ultimo rapporto che i finanziari hanno deciso di diffondere proprio in questa speciale occasione. I dati complessivi tutto il 2019 parlano di oltre un miliardo sequestrati per reati in materia di imposte dirette ed IVA, 9.020 evasori totali scoperti, 14.540 denunciati e 389 arrestati grazie alla scoperta di 6.841 reati fiscali, mentre sono stati 1.627 i casi di evasione internazionale rilevati. Un contributo, quello delle fiamme gialle e come sottolineata Mattarella, è stato fondamentale anche durante l'emergenza coronavirus. Nel pieno della pandemia gli uomini e le donne del corpo hanno sequestrato complessivamente 26 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, un milione dei quali per manovre speculative sui prezzi. I beni sono infatti stati venduti con ricariche che in alcuni casi hanno raggiunto il 6.000% rispetto al prezzo di acquisto. Su questo fronte sono state denunciate 195 persone, mentre sono 655 i soggetti denunciati per frodi in commercio, vendita di prodotti contraffatti, truffa, falso e ricettazione. A seguito dell'emergenza, dice il Comando Generale, il corpo ha rivolto la propria azione contro gli illeciti economico-finanziari che in questo particolare momento che sta vivendo il Paese e destano maggiore preoccupazione, come usura, riciclaggio, truffe e frodi in danno alla popolazione, pratiche commerciali scorrette e pericolose, manovre distorsive sui prezzi, percezione di risorse pubbliche, reati contro la pubblica amministrazione. La finanza ha puntato i fari anche sulle speculazioni riguardanti i gel igienizzanti. Nei primi 5 mesi dell'anno i finanziari hanno anche sequestrato 724.000 confezioni e 85.000 litri di igienizzanti che venivano venduti come disinfettanti. Alte 607.000 mascherine e 15.000 flaconi di prodotti per l'igiene sono invece stati requisiti dal Commissario per l'emergenza per essere distribuiti alla protezione civile, agli ospedali e agli enti pubblici. Sul fronte degli accertamenti previsti per il rispetto delle misure di contenimento del virus sono stati fatti un milione di controlli con l'impiego di 4.500 finanziari al giorno che hanno portato alla denuncia di quasi 5.800 persone all'arresto di 139 di loro. Quando al contrasto alla criminalità organizzata, a gennaio e a maggio sono stati svolti accertamenti patrimoniali nei conflui di 2.672 soggetti che hanno portato a chiedere all'autorità giudiziaria sequesti per 586 milioni di euro. I sequestri e le confische in applicazione della normativa antimafia hanno raggiunto rispettivamente 181,409 milioni, colpiti anche coloro che percepiscono irregolarmente il reddito di cittadinanza. Sono 709 quelli scoperti alla Guardia di Finanza del 2019 nell'ambio dei 22.151 interventi per la tutela della salute pubblica. Sono invece 3.844 i soggetti denunciati per le frodi alla spesa previdenziale e sanitaria, 35 dei quali arrestati. I finanziari hanno poi scoperto oltre 47 milioni percepiti illecitamente nel settore delle politiche agricole e segnalato alla magistratura contabile oltre 5.200 soggetti per danni erariali ai quali sono stati sequestrati beni per 66 milioni. Il tutto per un totale di oltre un milione di interventi, quasi 3.000 al giorno e 51.000 indagini delegate alla magistratura ordinaria e contabile. Sarà una settimana di incontri per le elezioni regionali all'interno del Partito Democratico Irpino, così come nel centrodestra, che a stretto giro è chiamato a scegliere il proprio alfile per la corsa a Palazzo Santa Lucia, ma anche nel terzo polo che potrebbe aggregarsi attorno alla candidatura di Valerio Ciarambino. A via tagliamento nei prossimi giorni il commissario Aldo Scendamo comincerà ad incontrare i rappresentanti dei circoli territoriali e di riferimenti d'aria. La partita, come noto, riguarda la composizione della lista ufficiale del Partito Democratico per il Collegio Irpino. Sfumata di fatto la possibilità di celebrare il congresso provinciale prima del voto regionale, i Democrat si battono per le candidature. I nomi da tempo sul tau sono quelli del Presidente del Consiglio regionale uscente, Rosetta D'Amelio, del Presidente della Commissione agricoltura, Maurizio Petracca, dell'ex Presidente del Consiglio comunale di Avelino, Livio Petitto. Manca la quarta casella che, se quello suscitato fosse il primo trist di candidati, dovrebbe essere occupato da un riferimento di area DEM. Sul punto si è parlato del nome di Nancy Palladino, ma non sarebbero esclusse sorprese. Soprattutto se dovessero esserci modifiche relative alle prime tre candidature o il luogo della pressione dell'area De Caro, che sarebbe provando ad affiancare una candidatura femminile in ticket con Livio Petitto. Nel centro-destra invece questa dovrebbe essere la settimana buona. L'impasse resta, ma durante la domenica appena trascorsa è stato smosso dalla rinnovata avvicinanza di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, Stefano Caldoro. Sulle regionali c'è un accordo nel centro-destra da mesi e non c'è ragione di cambiarlo, ha affermato l'ex Premier, rilanciando la candidatura del capogruppo d'opposizione in Consiglio regionale. Per quanto riguarda il terzo polo, invece, Sinistra Italiana ha chiesto ufficialmente un incontro a Valeria Ciarambino, candidata al Movimento 5 Stelle alla carica di governatore della Campania, per discutere di un percorso programmatico comune in vista del voto regionale. Al fianco di Sinistra Italiana ci sono i mondi della sinistra radicale ed ambientalista, a partire dalla rifondazione comunista, e potrebbe esserci anche la formazione politica che fa capo al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Uno schema, quello completamente spostato a sinistra, che potrebbe definire una propria via qualora i contatti con i pentastrellati dovessero portare ad un nulla di fatto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!